Prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. È stato uno shock. Sono stati due mesi terribili, per me e per tutta la mia famiglia che si è presa cura di me e a cui son grata. Così che, Merosen, su una panchina nel giardino di Windsor ha annunciato al mondo che ha il cancro. All'inizio si pensava che si trattasse di una forma non cancerosa. Ha detto la principessa del Galles riferendosi all'intervento di chirurgia addominale programmato per il quale è stata ricoverata 14 giorni alla London Clinic di Londra. I test condotti successivamente all'intervento però hanno evidenziato il cancro. Non si conosce la tipologia del tumore di Kate. Tra le ipotesi spunta quello di un sarcoma addominale. I sarcomi addominali, come spiega il Policlinico di Sant'Orsola, sono forme tumorali maligne che si sviluppano nei tessuti molli della cavità addominale. Il sarcoma addominale consiste in una massa di cellule maligne che cresce in maniera incontrollata e completamente scoordinata rispetto ai tessuti circostanti. I sarcomi addominali si manifestano in maniera molto più vaga e generica. A differenza della neoplasia che si sviluppa nelle braccia e nelle gambe e che si manifesta sotto forma di rigonfiamenti e tumefazioni, infatti, il sarcoma addominale diventa palpabile solo quando raggiunge grosse dimensioni. Cura e mortalità l'approccio curativo varia in base alla sede, alle dimensioni e allo stato di avanzamento del tumore. Grazie 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 Grazie